ciao a tutti e benvenuti di nuovo su Tonychat quante volte durante il percorso durante la ginkana durante un percorso di cross durante anche una semplice ripresa di dressage vi siete trovati affaticati che avevate il fiatone che facevate fatica a finirla oggi faremo insieme a me un piccolo circuito che dura davvero poco dedicato al cardio quindi a far sì che durante tutti gli esercizi non ci venga questo senso di fatica e facciamo fatica a respirare eccetera eccetera iniziamo subito saranno 10 esercizi in totale che dovranno essere eseguiti per 45 secondi e 15 secondi di pausa ok l'unica cosa che serve è un semplice cronometro o un telefono quello che volete qualcosa che tenga il tempo iniziamo subito il primo esercizio saranno i semplici saltelli che abbiamo visto tutte le volte per riscaldamento apre chiudo pronti partiamo 45 secondi ancora 10 secondi 15 scusate 10 e pausa pausa 15 secondi il prossimo esercizio che andiamo a vedere invece sono sempre gli stessi saltelli solo avanti indietro ok mani come volete pronti via sempre 45 secondi 10 secondi sono passati se fate fatica non smettete continuate piuttosto rallentate un po' invece di farli così veloci fate magari tipo così 30 secondi sono passati 40 e 45 secondi fine ora faremo quelli che vengono chiamati i climbers mi metto di lato e porto velocissimamente le ginocchia al petto sempre per 45 secondi via 20 secondi 30 secondi 40 5 4 3 2 1 stop ok 15 secondi di pausa prossimo esercizio saranno 5 tempi skip vado giù e torno su ok via 1 2 3 5 20 secondi 20 secondi 20 secondi di riposo 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 15 16 18 18 19 20 19 20 40 5 4 3 2 stop ok ora altro esercizio ripetiamo quello dei saltelli che abbiamo fatto all'inizio via 20 20 secondi 20 secondi 45 45 45 e i 45 ok ora corro piano piano in avanti vado giù e corro indietro ok sempre 45 secondi quindi secondi di pausa vedete non mi serve un grande spazio 20 secondi sono passati 20 secondi sono passati 20 25 ok ora rifacciamo quelli che abbiamo fatto prima Veli scambiando avanti e indietro, sempre 45 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, via. Veli scambiando avanti e indietro. Veli scambiando avanti e riposo, 15 secondi e poi faremo i climbers. 5, 4, 3, 2, 1 e via. 20 secondi sono passati. 30 secondi, ancora 10, 9. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, ora alterneremo i due esercizi, quelli dei saltelli. Quindi apro, chiudo, avanti e indietro, chiudo. Ok? Ok? Sempre per 45 secondi. Via. Apro, chiudo, va? Ok. 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 Ora vedete che manca poco e stop. Ultimo esercizio, il più faticoso di tutti. Faccio due semplici saltelli e il terzo porto le ginocchia al petto, più alto che posso. Pronti? Ultimo sforzo, via! Se siete già molto affaticati fate dei semplici saltelli così. Ok? Ma non fermatevi, continuate. Forza, forza, ultimi 10 secondi. E stop. Ok. L'ideale sarebbe ora fare una pausa di 15-20 secondi e ripetere di nuovo tutto il circuito, se non siete troppo affaticati. Spero che anche questo circuito, molto breve e veloce, ma intenso, vi sia servito. E ci vediamo alla prossima lezione. Ciao, ciao!